Partita al Cardiopalmo, al Massimino, un Catania dominato per almeno un'ora dal Trapani in vantaggio per 2-0 con un euro-goal di Tulli e un gol di Ferretti, il primo proprio all'inizio della partita e l'altro nella ripresa. Riesce incredibilmente con l'aiuto di un pubblico eccezionale, quasi 20.000 spettatori a recuperare e a tenere viva la qualificazione per quanto riguarda la partita di ritorno che si giocherà domenica alla provincia di Trapani grazie alla doppietta e ai lodi, gol incredibile del centrocampista del Catania, punizione sostanzialmente da centrocampo che trova il portiere Dini fuori dai pali e 2-1 ovviamente per il Trapani. E poi il pareggio sul rigore procurato da Manet proprio nel finale, quindi 2-2 all'Angelo Massimino, partita molto 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 densa di significati che poi naturalmente lascia tutto aperto per quanto riguarda la qualificazione alla finale dei play-off di Serie C. Dallo stadio Angelo Massimino, Max Licari.